Buongiorno telespettatori di Telequattro, benvenuti al quarto d'ora che anticipa il telegiornale delle 13 e 20, quest'oggi siamo in compagnia di Donatella Pros che è la presidente dell'associazione Italo Gabrielli, buongiorno grazie per essere venuta nei nostri studi e poi siamo in compagnia di Francesco Gabrielli che è figlio di Italo Gabrielli e che noi già conosciamo a quale diciamo bentornato nei nostri studi. Grazie e un saluto a tutti. Allora il prossimo 2 di febbraio alle ore 17 in sala testitori del Consiglio regionale è in programma un convegno che parte dall'inventario dell'archivio di Italo Gabrielli e della famiglia Gabrielli per raccontare un pochettino anche del lavoro dell'associazione e della figura stessa di Italo Gabrielli. Direi che possiamo incominciare proprio con Donatella Pros parlando dell'associazione che è nata in periodo pandemico nel 2021 se non mi sbaglio. Allora grazie intanto dell'invito che ci dà l'opportunità appunto di far conoscere un po' anche al pubblico di questa nostra iniziativa. L'associazione è nata il primo febbraio del 2021 in pieno periodo pandemico e questo ha sicuramente ritardato un po' tutte le nostre attività. L'associazione è nata su decisa idea di Italo Gabrielli di tramandare non soltanto ai posteri quindi la sua famiglia ma anche a chiunque avesse idea e voglia di capire la storia del periodo travagliato del dopoguerra e della storia di Osimo e di tutta la battaglia che è stata fatta contro Osimo. Quindi è stata formata questa associazione che ha appunto lo scopo di divulgare tutte le notizie e tutte le informazioni che sono innanzitutto in questi due archivi. Perché due archivi? Due archivi uno della famiglia Gabrielli e uno di Italo Gabrielli. Allora quello della famiglia Gabrielli riguarda la famiglia che è originaria di Pirano e ci si trovano informazioni della famiglia dei Gabrielli a Pirano già dal 1350 però noi nel nostro archivio abbiamo informazioni intorno al 1750 in poi. Era una famiglia storica, una famiglia importante che ha portato anche a un podestà di Pirano che era Pierfelice Gabrielli e di una persona che era Francesco Gabrielli che invece era presente alla dieta del nessuno, uno di quelli che ha votato per due volte nessuno per mandare a Vienna i rappresentanti dell'Istria. Quindi una famiglia italiana. Una famiglia italiana. Esattamente. Chiedo allora, io ho avuto modo di intervistare un paio di volte Italo Gabrielli nel corso del mio lavoro. Credo Francesco che ci sia questo concetto di italianità alla base dell'impegno. Ci diamo del tu perché ci diamo del tu. Sì, sì, assolutamente. Credo che tutto, come dire, si riconduca a questo, no? Sì, ma è un concetto di italianità appunto che parte dall'Ottocento, no? È un concetto di italianità che è scevro da pregiudizi. Lui è un concetto di italianità. Lui si chiamava Italo. Ah, già, sì. Si chiamava Italo come si chiamava Italo suo nonno. Ora, questa famiglia legata a sentimenti certamente nazionali italiani, a metà dell'Ottocento, ha un sentimento di italianità. A metà dell'Ottocento si costituisce lo Stato italiano. A metà dell'Ottocento, prima, ci sono due guerre di indipendenza. E quindi anche l'Istria è partecipato un po' di questo movimento nazionale. E pur essendo sotto il regime austriaco e pur avendo anche dei controlli da parte del regime austriaco, la famiglia esprime anche nei nomi questo sentimento di italianità. Quindi Italo, quindi Vittoria, quindi mio nonno che non si chiamava Italo ma viene chiamato Siglio Italico, dove questo Italo torna comunque. E quindi un sentimento che lui porta avanti, mio padre Italo Gabrielli, porta avanti questo sentimento, che è un sentimento proprio familiare, dove sin da metà dell'Ottocento si attendeva a questo arrivo dell'Italia, questa unificazione con la madre patria, che arrivò appena nel 1918. E che poi, per certi versi, sappiamo anche come è andata, insomma. E questa è la seconda parte anche della sua vita, no? Beh, lui nasce nel 1921, per cui diciamo che quello che lui ha sempre vissuto, chiaramente era partito per l'università, ha fatto la normale di Pisa. E poi ha cominciato la carriera accademica. Questa impossibilità, questa cesura che c'è nella vita di prima e la vita di dopo, che hanno sofferto un po' tutti gli esuli, ecco, questa per mio padre è stata veramente significativa. È una cesura, un taglio con le proprie radici che ha portato avanti per tutta la vita. E da qua anche il desiderio di poter perpetuare, di poter comunicare questo suo sentimento. Ecco, in questo poi è chiaro che mio padre poi ha, diciamo, ha sempre sottolineato quello che era l'aspetto dei diritti umani. Si sentivano proclamare, venivano proclamati i diritti, i diritti umani, e lui diceva, ma perché? Ma perché questo non può avvenire anche per noi? Sono problemi, effettivamente, che io conosco, perché anche mio papà, la sua vita, lui era del 25, però anche lì c'è stata una cesura piuttosto netta, che nel caso di mio papà, temo, non si sia mai ricomposta. Si parlava anche di Osimo, no? Sì. Da qualche anno a questa parte, sulla questione Osimo, se ne parla un pochettino, se ne parla un pochettino meno, la si liquida sotto certi aspetti, come il prodromo della nascita della lista per Trieste, e quindi conseguentemente a livello nazionale, anche della nascita della Lega Nord, perché molti dicono, se non ci fosse stata l'esperienza della lista per Trieste, probabilmente la Lega Nord non sarebbe nata, non si sarebbe sviluppata, non sarebbe sorta, resta il fatto che anche Osimo, per certi aspetti, rappresenta una cesura piuttosto forte per quanto concerne la storia recente delle nostre terre. L'archivio di Italo Gabrielli su Osimo, che cosa propone? Allora, Italo Gabrielli ha sempre seguito, nonostante appunto fosse un fisico, quindi che avesse lavorato tanto anche all'università, ha portato avanti tanti studi e tante pubblicazioni, circa 80 pubblicazioni, ha sempre seguito il discorso della sua terra, quindi nel 54 ha costituito insieme ad altri l'Unione degli Istriani e quindi ha lavorato sempre anche all'Unione degli Istriani, poi dal 76 all'81 è stato presidente, quindi in tutto il periodo, diciamo pre-Osimo, ecco, perché la firma del trattato di Osimo è 10 novembre del 75, quindi nel periodo pre-Osimo ha lavorato moltissimo, facevano gli striscioni in piazza Goldoni, all'Unione degli Istriani, facevano volantini, hanno fatto incontri, quindi ha lavorato tantissimo, e poi anche dopo Osimo, perché prima della ratifica che è stata fatta alla Camera nel 76 e poi al Senato nel 77, ha sempre cercato in tutte le maniere, scrivendo a tantissime persone, ci sono lettere a tutti i presidenti della Repubblica che si sono succeduti alle Nazioni Unite, ci sono tanti volantini, cioè la quantità dell'archivio riferita a pre-Osimo, Osimo e post-Osimo è grandissima, ci sono circa 10 metri lineari di archivio, di carte, in cui lui ha scritto, ha scritto sempre in, come dire, per difendere la sua terra, per attivare altre, ha scritto addirittura al re d'Italia, a Umberto. E quindi, guardando questa documentazione, veramente ti viene, ti si stringe il cuore a vedere come una persona ci ha messo tutta la sua anima, per cercare di portare a casa un risultato che dopo purtroppo non è vero. C'è tutta la documentazione, anche l'epistolario con Santin, che all'epoca aveva tanto lavorato anche per il discorso di Osimo. Tanto noi abbiamo adesso, credo che fosse inquadrato anche uno dei tanti volantini che circolavano appunto in quel periodo. Insomma, io ho un'età che mi consente anche di ricordare quegli anni, avevo 12 anni, però insomma, mi ricordo qualche cosa, fu anche, in certi aspetti epici, furono anni anche di una certa epicità, per certi versi. L'associazione, dovrei fare la domanda alla Presidente, ma se no dopo non riesco a fare 1, 2, 1, 2, 1, 2, ma insomma penso che... L'associazione, immagino che non sia solamente fatta di documenti, di archivi, eccetera, come si pone a livello proprio di eventuali proposte, iniziative ed altro? Allora, noi crediamo che, avendo fatto questo particolare intervento sull'archivio di famiglia, sull'archivio di mio padre, possiamo avere un modello da comunicare anche ad altri, perché non è un lavoro semplice. L'archivio è un bene che rientra nel Codice dei Beni Culturali, come tale deve essere dichiarato di interesse storico, quindi sia l'archivio della famiglia Gabrielli che l'archivio di Italo Gabrielli sono stati dichiarati beni di interesse storico dalla sovrintendenza archivistica e da qui c'è stato tutto un coinvolgimento della sovrintendenza archivistica anche in un finanziamento poi per il riordino dell'archivio. Quindi questo è un modello che noi abbiamo sviluppato insieme alla sovrintendenza e che proponiamo anche ad altri. Cioè la nostra idea è se ci sono delle famiglie istriane che hanno degli archivi importanti, ecco, ditecelo, perché non è che vanno tenute lì, poi disperse, buttate al macero, vendute in qualche mercatino. Sono documenti che possono essere, rappresentare veramente un pezzo di storia, come l'archivio di mio padre e l'archivio della famiglia, testimoniano. Ecco, questo è un appello che faccio, vedete, di dirlo, di comunicare, di non aver timore, le parti burocratiche si affrontano, ma è importante sapere che ci sono delle famiglie come la nostra che hanno una storia e che questa storia è una storia che lo Stato italiano, tramite le sovrintendenze, riconosce come importante, come di interesse storico. Allora, io vi ricordo l'appuntamento del 2 febbraio, quindi cos'è la... questa settimana, sì, alle 17 in sala testitori della Regione, all'iniziativa parteciperanno l'Onorevole Matteoni, Luca Caburlotto, che è il sovrintendente archivistico per il Frui Venezia Giulia, fra gli altri interventi la dottoressa Francesca Frugoni, sempre della... Frugoni, sì, sempre dell'archivio, insomma della sovrintendenza, José Eduardo Marzo, Tullia Parenzano, Fulvio Rocco, Diego Redivo e appunto anche Francesco Gabrielli che parlerà per la famiglia. Grazie a Donatella Prost e a Francesco Gabrielli per essere stati con noi, buon lavoro, magari tornate pure a trovarci perché il discorso, soprattutto su Osimo, è un discorso che deve essere portato avanti forse un po' meglio di quanto... un po' meglio, in maniera differente di quanto si stia facendo fino adesso. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie. Grazie. E adesso andiamo in pubblicità poi il telegiornale delle 13.20. Grazie. Telespettatori di Telequattro buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la politica, con il consiglio comunale di ieri che insomma per certi aspetti non ha accontentato davvero nessuno. Vediamo allora un primo servizio firmato da Bernardo Gulotta. in realtà anche ieri purtroppo non hanno capito o hanno appositamente fatto una scena secondo me degna dei peggiori teatri. Ieri è stato veramente abbiamo toccato il fondo e abbiamo anche scavato. Nessuno è contento del consiglio comunale di ieri ognuno a modo suo non c'è pace per i lavori d'aula che anche ieri hanno vissuto l'ennesima sospensione dei lavori poi l'uscita dell'opposizione dalla sala del consiglio. Pomo della discordia alla violenza di genere l'ordine del giorno della consigliera Dem Repini è stato bocciato con i voti della maggioranza dopo la discussione e alcune lunghe interruzioni della seduta e le chiavi di lettura sono diverse fra maggioranza e opposizione. Ma è imbarazzante per noi essere in aula ed è per questo che siamo usciti. Quasi tutta l'opposizione aveva chiesto di inserire un testo che facesse prendere l'impegno a questa giunta di interventi di risorse di sostegno di tutela delle donne che subiscono violenza e di questo fenomeno che è in aumento a Trieste. Tutti quelli della maggioranza hanno votato in maniera contraria. E poi in aula Risolini Risolini sono da questa proposta? Bocciato l'ordine del giorno le pause d'aula erano volte a riunioni per cercare un'intesa bipartisan sull'argomento ma ci siamo riuniti e loro volevano che ci fosse una mozione condivisa. Lì era una cosa la sera io ho proposto assieme alla maggioranza ho detto guarda l'argomento ci sta molto a cuore siamo interessati a produrre questo documento che forse sarebbe il primo documento fatto assieme un bel progetto però cominciamo con domani in modo che lo strutturiamo bene con la commissione per l'opportunità e cerchiamo di stirare un documento che serva e che sia utile non questa sera che serve solamente a strumentalizzare quel che è un argomento così delicato ed importante. Ma nemmeno queste riunioni hanno portato un esito nobile quindi nessun accordo e opposizione che è uscita dall'aula. Tra i nati dal consigliere russo ahimè e io vi consiglio non seguirlo sempre perché effettivamente lui con questo suo modo e offuscato ancora dalla rabbia della sconfitta vi porterà davvero al baratro. si sono riuniti e il responsore è stato un bel no cioè hanno preferito abbandonare l'aula. Abbiamo dato la possibilità hanno detto oggi no valuteremo i prossimi giorni se far qualcosa a riguardo io lo ritengo gravissimo. Una sinistra spaccata che ci fa solo perdere tempo così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza dopo il consiglio comunale di ieri abbiamo votato tutti i 60 ordini del giorno glieli ho bocciati tutti quelli se ne sono andati oggi leggo sul giornale che ci sarà un altro consiglio ma di cosa parlano? c'era la Pucci che piangeva che faceva baruffa con la Famulari hanno chiesto un 4 o 5 volte la sospensione dei lavori buttiamo via soldi a palate risultato zero ma non era più sempre venire dal sindaco dammi 5 tanto sapete che di ordine del giorno non valgono niente dammi 5 ordine del giorno a me non hai portato a casa qualcosa siamo stati il primo consiglio hanno fatto mancare il numero secondo consiglio ieri e oggi leggo che faremo un altro consiglio ma ieri sera gli ho bucciati i 60 ordini del giorno gli ho bucciati tutti che follia una sinistra spaccata ieri ci siamo presi anche con Russo è una roba incredibile ma dove vogliono andare questi? quindi insomma il bilancio del consiglio di ieri per lei è un bilancio molto negativo ma no abbiamo buttato via una marea di soldi e questi non hanno nel senso due consigli calcolo consiglio vigi personale eccetera costa 8-9 mila euro sto dicendo e cosa avete portato a casa? nulla bravi complimenti una curiosità chiede anche Berlano da studio perché gliele ha bocciate gliele ha bocciate tutte? ma no perché se venivano su un tavolo mi dicevi su 60 me ne dai 5 a meno portavi a casa qualcosa non è che gli ordini del giorno valgono molto tanto per diti però politicamente uno si porta a casa niente hanno voluto fare questa guerra se ne sono andate per l'ennesima volta gli li ho bocciati tutti bravi complimenti due consigli comunali buttate via i soldi risultato zero nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando carabinieri per la salute militari del comando di Trieste con i carabinieri del NAS di Udine il personale del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina nei giorni scorsi hanno effettuato un'ispezione igienico-sanitaria in un ristorante etnico di Trieste riscontrando l'assenza delle minime condizioni di igiene e strutturali dei locali adibiti alla conservazione la manipolazione e la trasformazione degli alimenti il personale di Asugia ha disposto la sospensione immediata dell'attività di ristorazione fino al ripristino delle condizioni previste durante l'ispezione è stato effettuato un sequestro amministrativo di 50 kg di alimenti vari perché privi di tracciabilità sono stati inoltre eseguiti due blocchi ufficiali per 26 kg complessivi di prodotti a base di carne suina e bovina e un campione di carne e di suino da avviare alle analisi per la peste suina africana contestate violazioni amministrative per 4.500 euro e ieri sera la squadra del nucleo soccorso subacqueo acquatico di Trieste insieme ad altre unità di supporto sono intervenuti nel golfo a circa un milionautico dal largo della diga vecchia per soccorrere un peschereccio che recuperando la rete ha issato a bordo un tronco di circa 15 metri i vigili del fuoco dopo aver verificato che a bordo dell'imbarcazione non vi fossero feriti e che il tronco non avesse procurato né falle allo scafo o danni ai sistemi di propulsione di condotta del peschereccio hanno provveduto a tagliare con delle motoseghe il tronco liberando l'imbarcazione che a fine intervento ha potuto riprendere la propria navigazione le operazioni sono terminate alle 20 sul posto anche personale della capitaneria di porto di Trieste e giovedì verrà attivato il nuovo semaforo anti-incidente all'incrocio tra via Crispi e via Rossetti un punto pericoloso agli onori della cronaca a causa di incidenti anche gravi scoperti i semafori in via Rossetti angolo via Crispi i nuovi semafori che come vedete per ora sono lampeggianti una situazione particolare quella tra via Crispi e via Rossetti o magari c'era chi si metteva fuori col muso da via Crispi con la macchina per immettersi poi in via Rossetti o per passare oltre e da sotto in salita magari a gran velocità arrivava un'altra auto oppure doveva passare un pedone anche per esempio e ci potevano anche essere dei piccoli rischi uno degli incroci più pericolosi della città ha più alto tasso di incidenti anche gravi per questo la decisione di intervenire dall'altro lato esiste già un semaforo sotto all'inizio della rampa per così dire di via Rossetti e quindi le persone dicono speriamo che questi semafori quando saranno completamente in funzione siano coordinati perché se no c'è uno stop continuo e quindi insomma la viabilità potrebbe risentirlo e infatti sarà così quanto alla preoccupazione di code nel tratto in salita verrà scongiurata dal fatto che vi sarà una sincronizzazione tra i semafori precedenti e quelli successivi in modo da evitare i fastidiosi stop and go sono state adeguate anche le strisce pedonali e tolte le barriere architettoniche giovedì in tarda mattinata anche per evitare problemi in concomitanza agli ingressi dei ragazzi nelle scuole i semafori saranno attivati bisognerà invece aspettare l'estate per la posa del nuovo asfalto antiscivolo per consentire frenate più sicure lungo l'artello un uomo è stato soccorso stamani dal personale sanitario per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la grande viabilità nel territorio comunale di San Dorligo della Valle per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine nello specifico la polizia stradale l'uomo ha perso il controllo della moto che stava conducendo apparentemente nessun altro mezzo è stato coinvolto adesso ci occupiamo del conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale Il grido di guerra della Brigata Sassari Forza Paris che andrebbe tradotto Forza Insieme è risuonato più di una volta stamani in Consiglio Comunale durante la cerimonia di conferimento alla Brigata della Cittadinanza Onoraria di Trieste ricevere questa onorificenza dalle mani del sindaco è veramente un grande privilegio quindi è stata un'accoglienza bellissima una giornata di sole una festa per la Brigata Sassari e per la cittadinanza di Trieste La decisione del Comune rinsalda il lungo legame fra i diavoli rossi e la città fatto di figure come Guido Brunner Sergio Laghi Aldo Brandolini ufficiali triestini della Brigata di Ferro medaglia il valore militare Legami sono storici risalgono alla prima guerra mondiale quando la Brigata combatte vicino agli altopiani del Carso nella liberazione della trincea delle Frasche e della trincea di Razzi dopo la prima guerra mondiale le unità della Sassari sono state stanziate sul territorio di Trieste proprio qui nella caserma Vittorio Emanuele III di Via Rossetti quindi per tanti anni la Sassari è stata qui a Trieste sia durante la guerra che dopo la guerra la sala del Consiglio Comunale ha visto la presenza della comunità sarda triestina e non pochi non solo fra di essi hanno intonato alla fine della cerimonia l'inno stesso della Brigata e alcune canzoni appartenenti alla tradizione isolana la cittadinanza onoraria è vista dalla Brigata Sassari anche come un ulteriore impegno verso Trieste così esplicitato dal generale Messina i legami storici vanno conosciuti quindi la conoscenza è la base di tutti a tale scopo noi abbiamo portato la mostra del Museo Storico della Brigata Sassari qui a Trieste che sarà visitabile per tutta la cittadinanza fino al 2 febbraio colleghiamoci adesso con la sala operativa della Polizia Locale c'è con noi l'Ispettore Paolo Gurtner buongiorno Ispettore buongiorno a lei Musazzi buongiorno a tutti cosa ci racconta di questa mattinata e poi come sempre se c'è qualche cosa cui dobbiamo fare attenzione per questo pomeriggio la mattinata i colleghi mi hanno riferito che è abbastanza tranquilla nulla di particolare per quanto riguarda lavori futuri voglio far presente che all'interno del Largo Santos della nuova pretela diciamo all'interno del parcheggio dei Pullman ci sono dei divieti in atto sono attivi e quindi è prossimo l'inizio dei lavori da parte dei Mari Mazzaroli per quanto riguarda il resto c'è il solito problema della chiusura della galleria Cattinara seconda tra le 20 e 30 alle 6 e 30 della mattina con conseguente chiusura anche della rampa di Castelliere sempre nello svinco di Cattinara altre cose direi che per oggi non ce ne sono grazie Ispettore buona giornata buon lavoro saluti a tutti conto alla rovescia per la settantesima edizione della sfilata del Carnevale di Muggia che Telequattro trasmetterà in diretta domenica 11 febbraio a partire dalle 13 e 30 grazie al nostro Franco Torricella siamo tornati nel capannone in cui le otto compagnie realizzano i carri allegorici due occhioni azzurri di una creatura che resta ancora misteriosa un signore canuto che osserva da lontano che sia il padre della teoria della relatività riferimenti astrali e al fondale marino e chissà poi se questi saranno rami tentacoli o capelli prendono forma ma senza ancora svelare tutti i segreti i carri della settantesima edizione del Carnevale di Muggia un evento unico nel suo genere che Telequattro trasmetterà in diretta domenica 11 febbraio dalle 13 e 30 ma ciò che più conta molto di più di maschere e costumi è lo spirito che si respira nelle settimane di avvicinamento e i viz in capannone non si escludono nemmeno dal cameraman che arriva alle spalle sono questi i momenti in cui gli appassionati muggesani diventano una vera e propria famiglia del Carnevale nel capannone di via Trieste il caro del Carnevale è un'espressione di tutta la compagnia tutti partecipano per fare il caro del Carnevale perciò siamo qua per fare prontissimi ancora prima addirittura dei 15 giorni perché siamo una forza una potenza e tanto amore quanto ai favoriti nessuno si sbilancia in attesa di vedere cosa porteranno lungo le vie di Muggia le otto compagnie Trottola Buglie Puppe Labora Ongia Mandrioi Lampo Bellezze Naturali e Brivido l'imparzialità di Re Carnevale ancora una volta regna sovrana non si può dire è sempre una sorpresa per Carnevale anche se affettuosi tentativi di corruzione non mancano Zoleman da Re ok grazie domande andiamo in pubblicità poi ancora altri servizi entriamo in studio dunque via ai lavori fra il Cedas e i Topolini partito il cantiere grazie alla posta da 850 mila euro del comune di Trieste in attesa dei fondi regionali ma il sindaco di Piazza Berte sono preoccupato impossibile consegnare ai triestini una barcola completamente rifatta entro l'estate guarda non parlarmi dei Topolini perché la situazione è drammatica però la seguirò personalmente però non sono ottimista perché veramente il mare ha scavato tutto sotto la bisogna fare degli investimenti importanti ma quelli li abbiamo però i tempi sono sai entro maggio devo consegnare ai triestini altrimenti mi viene la rivoluzione devo consegnare barcola ai triestini adesso vediamo però non riusciremo a fare tutto sicuramente perché la situazione è drammatica tutta la preoccupazione del sindaco di trieste Roberto Di Piazza consegnare una barcola completamente risistemata ai triestini entro l'inizio della stagione è una missione impossibile troppo ingenti i danni provocati dalle mareggiate tanti lavori da portare a termine e si andrà avanti anche in piena estate intanto oggi anche se le ruspe non sono ancora entrate in azione è stato aperto il cantiere fra la zona del Cedas e i Topolini interventi possibili grazie agli 850 mila euro anticipati dal comune in attesa dei 6 milioni e 200 mila stanziati dalla regione i lavori si affiancano a quelli già avviati per il rifacimento delle aree di porfido divelte dalla forza del mare e per la sistemazione dei tratti murari prima del pane quotidiano partiamo dalla zona Cedas e interveniamo a commesso di sicurezza di banchine e quant'altro in più parti dei Topolini le parti più ammalorate dei Topolini saranno oggetto ovviamente di una manutenzione soddinaria grazie ai fondi che riceveremo dalla regione e sono le parti centrali i Topolini centrali di Trieste ora partiamo con questi lavori di messa in sicurezza in modo tale da permettere ovviamente l'avvio della stagione estiva ci tengo a dire che gli interventi sono tanti sono importanti sono consistenti e sono anche di una natura completamente straordinaria rispetto al passato quindi il nostro impegno e preoccupazione è quella di garantire la stagione balneare estiva con molte probabilità avremo qualche cantiere sul lungomare ma l'impegno è quello di garantire ovviamente l'accesso in questi giorni partiranno anche nella zona centrale dei Topolini delle video ispezioni e la fognatura per fortuna le pompe funzionano ma è necessario fare una verifica anche della fognatura che poi va a servizio di tutti i 10 Topolini sulle effettive disponibilità economiche per i concessionari sulla base del bando appena pubblicato dalla regione finanziato con 4 milioni e mezzo di euro li rileva uno dei soci dello stabilimento balneare sticco fortemente preoccupato da tempi e limitazioni del bando appena indetto dalla regione e finanziato con 4 milioni e mezzo di euro per la ricostruzione degli stabilimenti balneari fortemente danneggiati dalle mareggiate dei primi di novembre dello scorso anno i fondi potrebbero essere insufficienti per coprire tutti i richiedenti all'80% delle richieste e i tempi di ristrutturazione potrebbero far arrivare tutti con cantieri ancora in corso quando sarà già tempo di aprire ombrelloni e sdraio beh sì diciamo che il primo problema è proprio un fattore di tempistiche siamo ormai già al primo di febbraio e noi tutti dobbiamo aprire la stagione il primo giugno vuol dire che mancano marzo, aprile, maggio giugno cinque mesi e tenga conto che penso io ma come tutti gli altri proprietari di stabilimenti abbiamo almeno tre mesi di lavoro in che poi tenendo conto dell'inverno brutto tempo imprevisti vuol dire quattro mesi quindi cominciamo già a essere molto stretti con i tempi inoltre ad oggi comunque sì è stato indettato diciamo questo bando dicendo comunicando una somma generale ma al momento noi tutti brancoliamo ancora nel buio perché non abbiamo ancora idea di quanto verrà affidato a ciascuno e in ogni caso bisogna vedere quanti siamo e quale sarà la somma finale e capire se quello che è stato messo a disposizione basta per tutti altrimenti con le percentuali cominceranno a diminuire ora il punto sul futuro del Trieste Airport dopo l'accordo con Ryanair che farà base allo scalo di Ronchi dei legionari una decisione presa anche sulla base della cancellazione della tassa aeroportuale in Friuli Venezia Giulia 3 abbiamo fatto 930 mila passeggeri dato migliore di sempre e il precedente era 880 mila nel 2011 o 12 quindi noi l'anno prossimo prevediamo un milione e tre di passeggeri quindi come dire il milione è ben superato ecco poniamoci come dire nei prossimi tre o quattro anni di arrivare a questi 2 milioni è possibile certo che è possibile abbiamo avuto un competitor fortissimo e abbiamo un competitor fortissimo che è Venezia oggi moltissimi residenti anch'io vanno a Venezia quando non c'è il collegamento qua e siccome non ne abbiamo ancora tanti più cresce l'offerta nostra e più i nostri residenti partiranno da qua per quanto riguarda quel abbattimento della tassa aeroportuale per spiegarla a chi ci segue da casa che cosa significa per una compagnia come Ryanair e a livello di competitività per un aeroporto come il nostro sì allora questa è una tassa si chiama addizionale comunale per i diritti d'imbarco che vale 6 euro e mezzo per passeggeri in partenza quindi non per tutti i passeggeri ma quelli in partenza per una compagnia low cost significa ridurre i costi di accesso una compagnia aerea paga per per un collegamento non solo i diritti aeroportuali all'aeroporto paga anche i servizi dell'ENAV cioè del controllo del traffico aereo e paga anche questa addizionale comunale la riduzione o meglio l'eliminazione di questa addizionale comunale per i diritti d'imbarco significa avere una riduzione dei costi di accesso in un mercato quindi è estremamente importante per una compagnia soprattutto low cost ma in generale per tutte le compagnie quindi Ryanair arriva ma l'aeroporto stesso diventa più competitivo così? l'aeroporto in generale diventa più competitivo è chiaro che una compagnia come Ryanair che ha una capacità di generare domanda e ha un numero di aeromobili elevatissimo quest'anno nel 2024 loro arriveranno a 600 aeromobili cerca aeroporti dove i costi di accesso sono i più possibili ridotti quindi noi diventiamo assolutamente più competitivi ora il punto sulla crisi in casa a pallacanestro Trieste contestata dai tifosi dopo la partita persa con Rimini con Ariel Filloi ospite ieri sera del Caffè dello Sport cosa succede Ariel? no non riusciamo non riusciamo a a giocare bene in pratica è quello lì il fatto è quando quando siamo in difficoltà al posto di rimanere compatti iniziamo a cercare magari le soluzioni individuali separandoci un po' tra di noi e quindi alla fine vengono fuori i tiri un po' forzati magari iniziamo con un'idea di gioco ai primi errori ci scolleghiamo andiamo andiamo ognuno per conto loro tu da senatore da veterano ti sei confrontato con l'allenatore cioè vi siete parati con il coach qualcosa non funziona dobbiamo cambiare uno come te può anche permettersi diciamo di dire coach proviamo a cambiare qualcosa o non c'è stato questo confronto no no parliamo è molto aperto il coach su questo tipo di chiacchiere parliamo spesso magari non puntualmente su cosa cambiare ma parliamo su su tutto più o meno come va non è che ci mettiamo a parlare bisogna cambiare questo magari discutiamo su certi movimenti certi argomenti non penso che sia una sola una questione solo solo il coach no penso che nel senso ci dobbiamo fare un bagno di umiltà tutti quanti anche soprattutto noi giocatori pretendere di più ognuno di noi e di tutti noi come squadra ho un po' parlato con Ari prima della trasmissione e posso confermare che la squadra è con l'allenatore perché ho voluto proprio parlargli prima per capire se c'erano qualche spifferi qualche fastidio interno non c'è non c'è e mi hai detto che state lavorando per essere un po' più tradizionali mi hai detto abbiamo iniziato a lavorare in altre situazioni magari più più classiche diciamo per permettere chi ha altre caratteristiche tipo me o altri giocatori nelle condizioni di trovare un vantaggio non proprio dall'uno contro uno speriamo dalla prossima di un risultato visto che soprattutto questa partita possiamo aspettarci anche qualche uscita dai blocchi per il tiro qualcosa del genere oltre a quel pick a roll centrale possiamo aspettarci qualcosa del genere è tutto ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta e alle 19.30 con il telegiornale buon pomeriggio e a più tardi